Musica Musica Son arrivati due ricostri di avere soccorso con l'arrivato di medici a bordo Si, hai uscito più della ruota di dirottare le persone ferite Non potete passare nessuno al lavoro di vettura in direzione Palermo Non potete passare nessuno al lavoro di vettura Arrivano giornalisti e cercano di passare a tutti i conti Dunque, per non sapere se arrivano colore di ferito e altre persone 32 anni dopo, una pagina oscura della nostra Repubblica, della nostra nazione, con la strage di Capaci. Questa ovviamente è una scena che ricorda molto quelle che vediamo tutti i giorni, o almeno quasi, perché si sta attenuando anche questo tipo di fenomeno, per esempio sulla striscia di Gaza, i bombardamenti contro la Palestina, che veramente sono stati utilizzati gli ordigni di guerra, gli esplosivi in una quantità industriale. Per quanto poi siano stati presi gli artefici, chi ha azionato il telecomando, è certo che il tappo sulle grandi coperture per un omicidio di Stato così importante, che stava per sferzare un colpo definitivo a quella montagna di merda, così come diceva esattamente la persona che morì molti anni prima di lui denunciando la mafia. Quindi questo ancora rimane una delle pagine più oscure e tristi della nostra nazione. Cambiamo argomento perché torniamo in Calabria, dove esiste un problema. Esiste un problema di demografia, esiste un problema di decremento demografico, ma esiste anche il problema della fuga e della fuga dei giovani. Alle nostre latitudini il problema che riguarda il settore turistico è acuito dalla mancanza di giovani che hanno deciso di lasciare la Calabria per trovare fortuna altrove. In vent'anni 90.000 hanno scelto di emigrare. Dal 2002 al 2022, in venti anni, abbiamo perso 90.000 giovani in Calabria che sono andati nel nord Italia e qualcuno anche all'estero. Questo ci deve far riflettere e sicuramente dobbiamo investire, diciamo, il DL Coesione aiuterà sicuramente a trattenere un livello occupazionale più alto qui in Calabria che è importante perché ricordo che siamo i secondi in Italia per il tasso di disoccupazione e ritengo che il DL Coesione possa servire proprio a questo. Il turismo rappresenta un fenomeno di grande importanza anche per l'economia. Da una parte la raccolta e l'analisi dei dati forniscono informazioni utili per lo sviluppo e l'organizzazione del settore. Dall'altra i contributi svolgono un ruolo chiave nello stimolare lo sviluppo turistico e creano opportunità di crescere. Dobbiamo distinguere due tipi di turismo. Il turismo che riguarda la ristorazione collettiva, quindi gli appalti, e il turismo che invece riguarda quello prettamente delle vacanze. Uno, chiaramente, dovremmo cercare di incentivare la destagionalizzazione, cioè cercare di partire magari a maggio e finire a ottobre, visto il meteo che in Calabria lo consente, e dare sicuramente gli incentivi, degli aiuti alle imprese serie che operano nel territorio. A Catanzaro al via il primo convegno organizzato dall'ente bilaterale turismo Calabria. Rappresento la FIPE che è uno degli enti paritetici che hanno contribuito alla formazione dell'ente bilaterale turismo e che quindi oggi qui rappresentano la parte datoriale del lavoro, quindi il mondo degli imprenditori e soprattutto delle piccole e medie imprese per quanto riguarda le attività di ristorazione e di intrattenimento. Un'Italia che si sta avviando verso dei cambiamenti ma che in alcune zone dello stivale resta vinghiata a retaggi atavici e quanto emerge dal rapporto Italia 2024 redatto dall'Eurispe e si è presentato oggi. Tra le tante voci presi in esame, balza il dato sull'emorragia demografica anche alle nostre latitudini. Infatti la Calabria assieme a Molise e Basilicata registra un calo della popolazione tra l'11% e il 12%. Un sud che si impoverisce delle sue risorse e dei talenti dei giovani. Sono oltre 900.000 i residenti persi dal 1995 ad oggi. Una fuga dettata dal lavoro probabilmente, considerando che la situazione al miridione è delicata anche da questo punto di vista. L'occupazione in Calabria dal 1996 al 2023 ha toccato punte del meno 7,2%, cifra che deve far riflettere, specie se si confronta con la media nazionale del più 6,5%. Dopo la Sicilia, nella nostra regione ci sono gli adulti con il più basso livello di istruzione, pari al 44%. Anche per i laureati la situazione non cambia, anzi la Calabria è maglia nera, con la quota più bassa rispetto al resto d'Italia, pari al 23,5%. Non a caso, alto qui come nel mezzogiorno il livello di dispersione scolastica. Restano le dicotomie con il divario nord-sud che si allarga. Basti pensare che il mezzogiorno è destinato a crescere tre volte di meno rispetto al settentrione. In Calabria, come nel resto d'Italia, l'incertezza e l'instabilità sono diventate una norma, tanto da condizionare ogni possibilità di ulteriore sviluppo, citando le parole del presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara. Ed ecco che il 57,4% degli italiani ha dichiarato di incontrare enormi difficoltà per arrivare a fine mese. A preoccupare sono le bollette, l'affitto e le rate del mutuo, tanto che lo zoccolo duro resta la famiglia d'origine, considerata come rifugio e porta aperta per avere aiuto economico. Ora, chiaro, fatta eccezione per l'Università della Calabria, che continua ad avere dei numeri in decine di migliaia, che infatti dal punto di vista sia dei servizi che dell'offerta didattica la fanno risultare come le rate nei, nelle graduatorie nazionali e internazionali più importanti, c'è qualcosa che non funziona. C'è un cortocircuito, ma il cortocircuito più grande avviene nel post laurea perché ovviamente la via di fuga, per molti casi, tranne anche gli eccezionali livelli di alcune start-up, quindi incubatori di impresa che resistono all'interno dei nostri atenei, del nostro ateneo principale che è quello appunto di Arcavacata, ma l'offerta non esiste. E poi parlando e ritornando indietro al turismo, da quanto tempo sentiamo parlare di destagionalizzare il turismo, di farlo durare da maggio a ottobre, quando invece sappiamo benissimo che dura per 20 giorni l'anno e che la maggior parte dei soldi si muove con fitti in nero in tutta quanta la costa terrenica, ma anche su quella ionica. E allora probabilmente la riflessione andrebbe fatta in maniera più ampia, articolata e soprattutto con degli investimenti che devono essere mirati, sì, per le imprese serie. Qua il problema è il costo del lavoro, che andrebbe anche cambiato, perché di lavoratori in nero ne ritroveremo sicuramente anche quest'estate e sapete che questa non è una cosa che certamente induce la gente ad accettare di buon grado di restare nella nostra terra. Cambiamo argomento, o meglio, cambiamo territorio, ma sempre crisi del lavoro. Questo è un perno principale che affligge la nostra terra, ci spostiamo a Crotone ed è annosa la problematica relativa all'Abramo Customer. Il tempo stringe per l'Abramo Customer Care. Messe dopo mese si è arrivati a poco più di 30 giorni alla scadenza della proroga della commessa team. I dipendenti sono andati avanti lavorando come sempre, ma in cuor loro speravano che si trovasse una soluzione definitiva prima di questo drammatico conto alla rovescia che coinvolge un migliaio di lavoratori di diverse aree della Calabria. Il tempo è veramente pochissimo, non poco, siamo stati in silenzio per più di tre anni. Adesso non possiamo più tacere, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, della vicinanza di tutti, tutta la cittadinanza, di tutta la provincia, di chiunque può darci una mano a capire di che cosa ne sarà del nostro lavoro. Il Consiglio Comunale Aperto a Crotone ha riacceso i riflettori sulla situazione che in questi mesi è stata in stand-by. Adesso è arrivato il momento di tutelare il futuro dei dipendenti. Oramai siamo arrivati alla fine perché le due date che avevamo disponibili, che sono il 30 giugno per la scadenza dei contratti e il 7 agosto scade il commissariamento, sono arrivati. Oggi ne abbiamo 22 maggio. Considerando che i contratti scadono il 30 giugno, il preavviso dovrebbe essere di 30 giorni, dal primo luglio, non sapendo niente, siamo tutti senza lavoro e senza stipendio. Il presidente della provincia di Crotone, Ferrari, ha proposto di chiedere al prefetto l'istituzione di un tavolo tecnico con l'azienda. I sindaci di Crotone, Catanzaro e di diversi altri centri si sono fatti portavoce dell'esigenza di un intervento straordinario da parte della regione e dei ministeri. Bisogna dare continuità a questa azienda che ha mostrato in quasi 25 anni l'eccellenza del settore. Tanta professionalità che non può essere dispersa, tante famiglie, tanti lavoratori, per cui confidiamo sul fatto che il governo dia continuità proprio all'Abramo. Se arrivano poi queste dichiarazioni da parte di chi ci amministra, quindi confidiamo, abbiamo speranza, fiducia, invece le parole chiare, nette e distinte dei lavoratori sono chiare, proprio la palissiano. Il 30 giugno ci saranno delle famiglie che resteranno per strada, persone che comunque hanno investito un quarto di secolo della loro vita crescendo professionalmente e che poi rischiano di aver vanificato tutto il percorso professionale che hanno compiuto, per un'azienda che ha funzionato finché aveva le grandi commesse. Allora io busserei anche alla porta di chi poi ci rappresenta nelle delegazioni parlamentari e che dovrebbe spingere perché qualcosa accada anche in questa nostra terra. Una pagina lunga, ampia, fatta da due blocchi di servizi, ma ovviamente parliamo di sanità tra tantissime ombre e qualche spiraglio di luce. A battere le liste d'attesa e difendere la sanità pubblica vittima di un vero e proprio smantellamento a favore di quella privata, sono queste le motivazioni di una protesta organizzata questa mattina davanti al CUP di Cosenza, al poliambulatore di Rende, dalla CGL, dall'Auser e da Feder Consumatori. I manifestanti chiedono in buona sostanza il diritto alla salute e nello specifico la possibilità di svolgere esami diagnostici in tempi rapidi. È una cosa molto grave perché le liste non solo a volte sono bloccate o troppo lunghe, ma c'è anche proprio un difficile accesso da parte del cittadino ai servizi e ai centri unici di prenotazione. Infatti la nostra protesta è sia qui sul Rende che su Cosenza, davanti ai CUP. Sono organizzati male, a volte i posti risultano occupati mentre nei servizi ci sono posti vacanti ed è una questione grave, a volte anche di vita o di morte perché a Bolzano le aspettative di salute sono di 66 anni e in Calabria di 55 anni, cioè ben 11 anni di differenza e quindi qui i cittadini non vivono in salute. Un'iniziativa che arriva alla vigilia dell'attivazione degli sportelli SOS e liste d'attesa. Per aiutare il cittadino a esercitare il diritto perché ci sono delle norme che prevedono la possibilità di fare la visita in Intramenia pagando solo il ticket se è dovuto nel caso che si superano i tempi di attesa previsti dalla legge. Quindi il cittadino deve essere informato per poter esercitare il diritto alla salute. Sono 140 dializzati crotonesi, 120 si sottopongono a ebodialisi e 20 a peritoneale, il numero così come in Calabria è in crescita. Nel 2016 erano assistiti da 14 medici, dicono i componenti dell'ANED, dal mese di febbraio sono rimasti in tre e questo è il primo e il più grave dei problemi che assillano la nefrologia dell'ospedale San Giovanni di Dio. Da anni i pazienti chiedono maggiore attenzione per il reparto che invece è sempre più sguarnito e inadeguato anche dal punto di vista logistico denunciano. Contro i medici non si riesce a garantire la ben minima condizione di cura, non ce la fanno i medici, non ce la possono fare. Noi abbiamo una situazione anomala, è l'unico reparto di dialisi posizionato a settimo piano. In Italia non esiste, il disciplinare della dialisi, dei dializzati, dei nefropatici parla di piano terra o meno uno. Adesso praticamente avevamo fatto un accordo con l'ex commissario Carbone che dovevamo scendere al vecchio pronto soccorso perché il nuovo è in costruzione. Pare che ci siano dei tempi che si stanno procrastinando, non deve essere così altrimenti, non so cosa facciamo. Come se non bastasse, i nefropatici dividono i loro spazi con i malati oncologici, una situazione anomala che si somma alla carenza di posti letto. Nel reparto di oncologia tutte le mattine è un vero e proprio lazzaretto. Centinaia, lo possiamo ben dire, di pazienti che la mattina aspettano cure, giuste cure, visite ambulatoriali, analisi, la chemioterapia stessa. E il problema diventa anche da un punto di vista gestionale perché a questo punto noi non abbiamo un reparto unico dove poter fare le visite e ricoverarli contemporaneamente. Purtroppo dobbiamo appoggiarci alla nefrologia, tant'è che appunto l'accorpamento di nefroncologia. Ora sono stati dedicati solo dieci posti letto ai malati oncologici. Rendiamoci conto in una città del genere dove ormai le malattie oncologiche possono essere definite veramente come una pandemia. Ogni giorno, purtroppo anche in soggetti giovani, arrivano malati oncologici in questa città. Purtroppo la situazione è quella che è e abbiamo solo dieci posti letto. Uno dei segmenti importanti della sanità italiana riguarda i pediatri di libera scelta. E senza discostarsi poi di tanto dalla situazione emergenziale sanitaria in Italia, anche per i pediatri di famiglia le dinamiche non sono idilliache. Così come testimonia l'ultimo report della Fondazione Gimbe, che ha analizzato le cause e i problemi che regolano l'inserimento nel sistema sanitario dei pediatri di libera scelta, ovvero i medici per i bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni. Ripercussioni che ricadono sui genitori del nord e sud Italia, molti dei quali raccontano la difficoltà di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia, con un numero eccessivo di assistiti e la paura per la salute dei più piccoli. In Italia nel 2022 i pediatri di libera scelta in attività erano 6.962, ovvero 446 in meno rispetto al 2019. E in Calabria che dimensioni ha il fenomeno? Stando al Gimbe, ipotizzando una media di 800 assistiti al 1 gennaio 2023, si stima una carenza di 24 pediatri di libera scelta. Il numero medio di assistiti è pari a 889, ovvero sotto media nazionale. La soglia è di 898 assistiti. Tuttavia al di sopra del massimale senza deroghe, ossia 880. Il 77,7% degli assistiti in carico ai pediatri di libera scelta ha più di 5 anni. La media nazionale è dell'81,8%. Dati che si intersecano anche con i pensionamenti. Nella nostra regione, entro il 2026, 64 pediatri di libera scelta raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. Rispetto alle grandi regioni del nord, la situazione in Calabria è discretamente buona, ma non bisogna abbassare la guardia rispetto ai pensionamenti attesi entro il 2026. Occorre attuare la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR, stipulare accordi sindacali in linea con il turnover e garantire così il ricambio generazionale. I numeri parlano chiaro. Intanto per quello che riguarda la protesta di rende di cosenza sulle liste d'attesa. Poi parliamo di migrazione sanitaria? E poi continuiamo a parlare ancora di migrazione sanitaria e di quell'emorregia che riguarda centinaia di milioni di euro che vengono sperperati, quindi non investiti per carenza di strutture, di personale, per organizzazione, per gestione. Quindi parliamo anche di un accorpamento tra un reparto oncologico e 10 posti di ematologia, quando poi i numeri per quello che riguarda la provincia di Crotone, ma in realtà per la Calabria sono allarmanti per quello che riguarda le malattie oncologiche e dove non esistono, nella grande straordinaria maggioranza dei casi, dei registri proprio dei tumori. proprio per aggiornare anche quelle che sono le situazioni e le questioni. Da qui bisogna ripartire. C'è poi la buona, più o meno buona notizia, sui pediatri di libera scelta, ma c'è anche l'avvertimento che arriva dalla Fondazione Gimbe sui numeri che nel 2026 cambieranno, il che vuol dire che bisognerebbe accelerare, perché parlare di fondi, parlare di investimenti, ma non attuare poi queste buone pratiche e allora risulta essere qualcosa di poco conveniente per quello che riguarda la ripresa di un settore fondamentale, cioè quello della salute dei calabresi. Altro blocco di servizi esattamente di due sulla sanità, dove pare invece che ci siano delle buone prospettive, buone notizie. Le segnalazioni da parte dei cittadini circa le criticità che riguardano l'annunziata di Cosenza sono quotidiane, ad iniziare dalle lunghe attese al pronto soccorso, ma presto le cose dovrebbero cambiare, ad iniziare dal Dipartimento di Emergenza Urgenza, dove i lavori di restyling sono quasi ultimati. I lavori sono pressoché conclusi, parliamo di giorni, possono essere 10-20 giorni, possiamo dire che è una realtà. C'è poi il problema atavico del personale, servirebbero più medici, infermieri e osso per rispondere al meglio alle esigenze di salute dei cittadini. Anche sul personale dobbiamo fare un'operazione di chiarezza, vediamo i numeri, ci saranno incontri anche con l'organizzazione sindacale, dobbiamo fare assunzioni mirate e dobbiamo migliorare l'organizzazione, questo come sistema sanitario regionale, perché è vero che c'è, che ci può essere una carenza di personale, però altrettanto è vero che c'è bisogno di un efficientamento organizzativo. Si procede dunque per steppo. Si procede in maniera mirata, ragionata, il concetto che serve tutto non è vero, come altrettanto non è vero che non serve nulla. Comunque l'ospedale annunciato di Cosenza ha migliorato moltissimo le sue performance e quando parlo di performance non parlo di un concetto astratto, vuol dire aver curato di più e meglio i cittadini di Cosenza e della sua provincia. Un nuovo decreto sblocca le assunzioni nella sanità calabrese per il 2024, previsto il rafforzamento del personale con 219 operatori sociosanitari e 165 autisti per l'emergenza urgenza. Per quanto riguarda gli autisti va precisato che c'è già una graduatoria pronta. Gli idonei sono 223, di cui 158 a Cosenza, 33 a Reggio Calabria, 15 a Catanzaro, 16 a Crotone e 1 a Bibbo. Attualmente in servizio 248 sono gli autisti, ne mancano 345. L'intento si legge nella breve nota diramata dalla regione rafforzare la rete dell'emergenza urgenza, le postazioni avanzate e medicalizzate e i presidi H12. Nel documento firmato dal commissario ad acta della regione Calabria e presidente Roberto Chiuto, previsto anche lo stanziamento di 26 milioni e mezzo di euro suddivisi tra le aziende sanitarie e ospedaliere per assumere ulteriori figure che dovranno rispondere alle esigenze delle strutture sanitarie. Un segnale in una regione in cui gli ospedali sono stati svuotati e territori sfogliati di servizi in 17 anni di commissariamento. Questo insomma voglio dire, lo sbabbaldino non ce l'ha certo mandato a dire, ci ha descritto una situazione con delle tabelle che sono eloquenti al riguardo. La sanità calabrese è stata depoperata, svuotata dai commissariamenti che ormai si susseguono da oltre un decennio, sì molto di più e questo è il punto. Non so comi chiusi, punti di primo soccorso chiusi, il che vuol dire che larghe fette di territorio restano completamente scoperte. Il tempo che è necessario perché un'ambulanza possa raggiungere un posto distante, 25-30 km con una viabilità in alcuni casi, credetemi, è assolutamente inesistente e allora lì veramente sei a rischio di vita e questo non è più comprensibile, non è assolutamente comprensibile. Cambiamo argomento e ragioniamo un po' su quello che riguarda l'economia. Impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura per l'acqua calda sanitaria realizzati nel 2012 presso 24 presidi ospedalieri ricompresi nelle aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone e Vibo Valencia, mai entrati effettivamente in funzione a beneficio delle strutture sanitarie, tanto da versare in stato di totale abbandono e incuria, in assenza dei previsti interventi manutentivi ordinari e straordinari. La Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Calabria ha notificato l'atto di citazione in giudizio per l'avvio del processo contabile nei confronti di due dirigenti pubblici e tre professionisti, ritenuti responsabili di un danno erariale stimato in circa 1,5 milioni di euro, in quanto intervenuti a vario titolo, responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori o con altre mansioni di gestione, nell'esecuzione dell'appalto per la realizzazione degli impianti. Secondo la contestazione avanzata, in fase progettuale si sarebbe verificato il mancato corretto dimensionamento degli impianti, il rapporto alle esigenze delle strutture oggetto degli interventi e la mancanza di coordinamento con gli impianti idraulici preesistenti, non oggetto di adeguata analisi. Alcuni impianti risultavano addirittura situati in zone a ridotta di radiazione solare. Nella maggior parte dei casi i lavori sono stati realizzati senza le preventie autorizzazioni o concessioni comunali e, quando necessario, senza le autorizzazioni previste in presenza di vinco e di tutela paesaggistico ambientale, circostanza che ha indotto i comuni per alcuni impianti a combinare specifiche sanzioni e a emettere l'ordinanza di demolizione delle opere abusivamente seguite. Ai soggetti citati in giudizio si contestano condotte gravemente colpose, sia con riferimento alla correttezza dei progetti, sia ai successivi controlli demandati alle figure tecniche chiamate a tutelare l'amministrazione pubblica nell'attuazione del programma di miglioramento energetico. Ruspa in azione per abbattere il fabbricato abusivo all'interno del villaggio Rovale, nei presti di Lorica. L'operazione è stata decisa dal Comune di San Giovanni in Fiore, che ha provveduto ad abbattere l'ecomostro edificato all'interno del Parco Nazionale dell'Asila. La demolizione è avvenuta sulla base di una recente sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità della deliberazione della Giunta Comunale, guidata da Rosalia Succurro, con cui si disponeva la demolizione di ufficio del fabbricato, in considerazione della resistenza del proprietario a procedere per conto proprio. L'altoppiano Silano si valorizza anche con queste attività, rimuovendo le opere abusive che deturpano il paesaggio e rappresentano baluardi della illiceità. La seconda opera abusiva che noi andiamo ad abbattere ed è importante perché l'ambiente non va deturpato ma va tutelato. Le opere abusive devono essere eliminate e deve essere valorizzato quello che è questo luogo, un luogo mozzafiato con luoghi suggestivi che vanno valorizzati ed è per questo che noi oggi siamo qui proprio per distruggere ciò che l'uomo in maniera abusiva aveva creato. Quanto influisce il cambiamento climatico sulla siccità che rischia di spezzare il territorio calabrese? Quanto è impattato la cementificazione selvaggia in Calabria causando quei problemi atavici tanto da far pensare di rincorrere le emergenze? Punti di domanda al centro del convegno alla cittadella regionale tra terra e acqua, sfide e opportunità per una Calabria più sostenibile. L'evento si inserisce nella giornata mondiale della biodiversità che ricorre oggi. Per tutelare il sistema terra-acqua calabrese sono stati messi in campo delle azioni mirate e dei finanziamenti della regione. Sfide dicevamo. È vero che abbiamo un territorio ricco di acqua ma non avendo le infrastrutture, i bacini e gli invasi che possono contenere l'acqua disponibile rischiamo di avere anche problemi di siccità. Mi riferisco alla zona in modo particolare del Crotonese, alle difficoltà che abbiamo nell'alto Ionio Cosentino, nel basso Ionio Regino. Tutelare la natura con azioni sostenibili significa anche contrastare l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Aumentare i controlli anche sia sullo sversamento dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti, sia su tutta la filiera della zona industriale, soprattutto qua vicino alla zona della Mezza e della zona di Catanzaro e non solo, anche giù nel Regino, vuol dire tutelare questo ambiente, vuol dire restituirlo ma soprattutto vuol dire rivalorizzarlo. Gli eventi estremi a cui purtroppo stiamo assistendo sempre più spesso il cambiamento climatico impattano sulla nostra regione, a rischio alluvione, erosione e rischio sismico. Tuttavia... Nei decenni passati vi è stata un'urbanizzazione disordinata, travolta speculativa e anche abusiva che questo ovviamente amplifica gli effetti appunto di questi eventi meteorologici. L'altro aspetto è che sono la conseguenza dei cambiamenti climatici e che ci aspettiamo e ci sono già stati periodi lunghi anche di severa siccità. Allora, dunque, il servizio in tal senso dovrebbe riavvolgere il nastro e vedere come si svolta la storia degli ultimi 50 anni perché sono state devastate, larghi tratti dei nostri ritorali, sia tirrenico che ionico, con abitazioni abusive sulla spiaggia, poi condonate, poi mai da nessuno controllate, alcune collettate alle fogne, altre non collettate alle fogne. Ci sono gli stessi problemi che insistono anche sia in provincia di Cosenza e in quella di Vibbo che addirittura in quella di Reggio Calabria. È veramente una situazione che bisognerebbe far pensare e riflettere un po' tutti quanti perché è chiaro che quello che levi al mare da una parte e da un'altra se lo deve riprendere. Primo o poi, ovviamente, se lo riprenderà. Questo è quanto. Peraltro io mi preoccuperei anche del fatto che c'è anche una serie di movimenti dal punto di vista dell'Unici, per quello che riguarda sia la campagna, l'abbiamo visto, ma anche in questo periodo in Calabria, negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Quindi è anche, soprattutto la coscienza dell'uomo, che deve andare in una direzione di protezione, di cercare di ovviamente tutelare ciò che noi abbiamo e sarebbero tante ricchezze se la gente continuasse a non deturpare il paesaggio in alcun modo. Comunque siamo giunti al punto anche per questo numero di Seven. Noi, come al solito, prima di lasciarvi, vi raccomandiamo di restare sul 12 perché il canale dell'informazione, tra i nostri TG e anche gli approfondimenti. Entriamo in punta di piedi nelle vostre case e proviamo a portarvi, a parlarvi della Calabria, di ciò che ci accade, di ciò che succede e di ciò che ovviamente potrebbe accadere. Ma prima di chiudere, ovviamente, vi lasciamo con un ultimo servizio che è invece di buon auspicio per quello che riguarda l'estate 2024 che è alle porte. A Roca Imperiale, dopo i lavori di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza, è stato riaperto il castello federiciano, il più grande della Calabria e uno tra i più grandi del Mezzogiorno. È stato fatto un grande lavoro di manutenzione perché il castello è rimasto inagibile per molti anni, ma gli interventi più importanti hanno riguardato gli impianti. Gli impianti, la messa a norma degli impianti, di tutti gli impianti, compreso quell'antincendio, ma quello che è stato studiato più accuratamente è l'impianto illuminotecnico. Noi quando siamo entrati in cantiere, ovviamente, sapevamo di questi camminamenti sotterranei, ma erano inaccessibili perché, insomma, riempiti di materiale da molti anni. Quindi abbiamo deciso di intervenire per recuperare e restaurare questi cunicoli che sono straordinari. Abbiamo fatto delle ottime manutenzioni, abbiamo coperto tre ambienti che erano scoperti e abbiamo destinato questi ambienti a spazi museali. Queste attrezzature multimediali, incentrate sulla figura di Federico II, ne fanno un museo virtuale di straordinaria importanza. Il castello di Rocca Imperiale, in tutta la sua bellezza e forza, è tornato finalmente a raccontare al mondo la sua straordinarietà e otto secoli di storia, non solo del territorio locale, ma anche del vissuto, spesso complesso e travagliato, del meridione d'Italia. È un'emozione unica perché noi la consideriamo la nostra seconda casa. Ritornare e ritrovare il castello in queste condizioni piacevolissime, perché negli anni scorsi non era assolutamente così. Quindi riaccogliere i visitatori con passione e gioia per noi è un'emozione fortissima. Sicuramente ci aspettiamo un'enorme affluenza turistica, ovviamente da rivedere il percorso, perché hanno aperto appunto la nuova area dei sotterranei, dei cunicoli, dove abbiamo delle norme di sicurezza da seguire e gestiremo nel miglior modo possibile. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS